L'Ischia batte 3-1 l'Ugento a domicilio nell'anticipo della settima giornata di campionato in Serie D. Squadra in campo con moduli speculari 3-5-2 sia per Oliva che per Buoncore, che sconta oggi l'ultima giornata della maxisqualifica rimediata lo scorso febbraio. Il primo squilo di giornata lo suonano i padroni di casa, al quinto Imenez calcia e trova la respinta corta di Giannaccone. A portarsi avanti nel parziale sono però gli ospiti all'ottavo. Gran botta di Danna da fuori, di Donato tocca ma non basta. Campani in vantaggio con tanto di esultanza infelice in faccia ai tifosi salentini presenti al comunale. Al venticinquesimo Favetta riesce a calciare da posizione defilata ma trova soltanto l'esterno della rete ed una mezza illusione del gol. Al quarantaquattresimo Pastore calcia forte sugli sviluppi di un corner ma colpisce al volto un suo compagno di squadra ossia Talamo. La prima frazione termina con gli ospiti avanti di un gol a zero. All'intervallo Mister Oliva prova a dare una scossa fuori un difensore. Iborra per un attaccante Medina, dentro anche Romero per Martinez. Tra le fila degli ospiti esce invece l'autore del gol Danna a beneficio di Patalano. Quest'ultimo segna al quarto del secondo tempo la rete del raddoppio ma il gioco è fermo a causa di una posizione di fuorigioco. Al settimo Talamo ci prova dalla distanza ma la botta del flasso 96 è centrale e di Donato para senza problemi. L'estremo difensore dei Salentini ci mette una pezza anche all'undicesimo sul più tiro che cross di Florio. Al sedicesimo ci prova anche Baglietti con coraggio ma senza fortuna. Passa un minuto e Battista appena subentrato a Favetta non trova lo specchio della porta su calcio di punizione. La reazione del lugento non arriva e quindi l'ischiara doppia al diciannovesimo con Patalano. Conclusione a giro che si insacca dove di Donato non può arrivare. I Salentini accorciano le distanze al venticinquesimo. Punizione di Romero ed inzuccata vincente di Ruiz decisiva la deviazione di Mattera. I giallorossi alzano il baricentro a caccia del pareggio ma si espongono troppo alle ripartenze dei campani. Florio viene lasciato completamente da solo in aria ed è libero di servire a Battista, l'assist del 3-1 finale. Al trentaquattresimo Baglietti trova la rete del 2-3 ma questo gol di testa viene annullato per fuorigioco e l'ultima emozione di un match che termina dopo 6 minuti di recupero.